ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi mi vedete vestita in questo modo con questo grembiule da cucina con la scritta san martino davanti perché in occasione dell'ottantesimo compleanno di questa azienda che appunto la san martino che produce preparati per budini per torte lievito dado da brodo insomma cose di questo genere quindi prelibatezze sicuramente in occasione di questo ottantesimo compleanno ho deciso di farmi recapitare la scatola di latta con le immagini vintage e con all'interno 11 prodotti san martino la scatola è questa è bellissima perché è una scatola di latta molto grande che ha appunto tutte queste immagini un po vintage che ripercorrono questi 80 anni dell'azienda san martino poi magari alla fine del video vi faccio vedere bene la scatola e le immagini che ci sono sopra e siccome all'interno di questa scatola ci sono 11 prodotti san martino e sono assolutamente 11 prelibatezze io ho deciso di condividerle con voi di farvi vedere che cosa c'è all'interno dentro la scatola c'era anche questo grembiule che sto indossando adesso è un grembiule da cucina di quelli lunghi che arrivano sopra il ginocchio c'è la scritta san martino e poi è carino perché davanti sul ventre c'è una tasca grande ora mi alzo e cerco di farvelo vedere sperando che lo vediate abbastanza bene questo è il grembiule e qui non so se riuscite a distinguerlo c'è una tasca questa tasca qui rimane praticamente sul ventre poi dietro si chiude così con un laccio quindi è un grembiule normalissimo però è veramente carino ed era in omaggio insieme alla scatola però adesso apriamo subito e vediamo che cosa c'è all'interno il primo prodotto che c'è all'interno sono queste due confezioni di lievito uno è per preparazioni salate lievito istantaneo quindi pane focaccia pizza torta salata tutte queste cose e poi c'è quello per le preparazioni dolci e questo è il lievito vanigliato quello classico da torta diciamo e ci sono appunto queste due confezioni e comunque il lievito è una cosa che personalmente utilizzo sempre quindi viene sempre bene averlo poi ci sono tre prodotti biologici della linea vegan dunque due sono preparazioni per dessert alla frutta devo dire che io questo prodotto non lo conoscevo assolutamente si tratta di un preparato per andare a fare una specie di budino comunque di dessert con la frutta quindi dovete versare questo preparato insieme ad un succo di frutta oppure della frutta fresca frullata e poi versarlo negli stampini e lasciare affreddare quindi è proprio come un budino però è tutto a base di frutta è una cosa molto particolare un prodotto assolutamente nuovo io non l'avevo mai visto quindi nuovo per me nel senso che io non l'avevo mai visto e voglio provarlo perché mi incuriosisce veramente tantissimo e poi sempre della stessa linea c'è una confezione di preparato per crema pasticcera questo è il classico preparato da crema pasticcera però è biologico e vegan quindi per le persone vegane o che amano particolarmente le cose bio sicuramente è da provare poi vedo un preparato per budino alla vaniglia da zuccherare eccolo qui questi sono i budini veramente quelli fatti in casa che sono secondo me buonissimi tra l'altro questa immagine il budino fatto così con questa forma mi attira tantissimo quindi mi viene voglia di budino solo per il fatto di vedere l'immagine così e poi c'è un'altra confezione di budino però questa volta al cioccolato e sicuramente è una cosa squisita perché il budino al cioccolato penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che sia buonissimo poi c'è una cosa sfiziosissima che è il preparato per la mattonella al cioccolato eccola qui all'interno ci sono proprio tutti i prodotti per andarla a preparare quindi ci sono anche i biscotti c'è il cioccolato insomma una cosa un po particolare e volendo c'è una ricetta per fare i tartufi quindi se non volete la mattonella al cioccolato potete fare i tartufi questa è una cosa che io sicuramente realizzerò in occasione di qualche pranzo o di qualche cena in famiglia perché non sono cose che posso fare così da per me stessa da sola nel senso che poi io queste cose non le mangio più di tanto quindi preferisco farlo in occasione appunto di una cena o di un pranzo e condividerlo anche con i miei parenti o amici insomma fare una cosa del genere quando lo andrò a realizzare magari farò il video se vi interessa così andiamo a vedere bene come si realizza che cosa c'è all'interno comunque direi che è una cosa assolutamente sfiziosa poi una cosa sempre sfiziosa ma un pochino diversa è il preparato per la torta sbrisolana io devo dire che non la conosco non conosco questo genere di torta non l'ho mai assaggiata non so neanche bene come si fa però vedo che dietro comunque ci sono le istruzioni e potrei andarla a realizzare perché appunto ho il preparato anche questa magari si potrebbe fare in occasione di qualche pranzo e cena perché sono cose che poi io da sola con il mio compagno non è che mangio tanto non siamo particolarmente golosi quindi è meglio condividere con altri queste prelibatezze poi c'è un classico preparato per cioccolata densa questa soprattutto in autunno in inverno è una cosa veramente deliziosa che io amo anche a colazione quindi a volte quando magari voglio alternare il mio classico cappuccino con qualcos'altro mi è già capitato di farmi una tazza di cioccolata magari una volta ogni tanto ovviamente non tutte le mattine però ogni tanto mi fa molto piacere quindi sono cose che io sicuramente utilizzerò e poi ci sono due cose salate sono dadi da brodo in particolare questi che sono dieci dadi da brodo senza glutamato aggiunto io lo utilizzo tantissimo il dado da brodo senza glutamato perché sicuramente il brodo fatto in casa con tutti gli ingredienti necessari è molto più buono soprattutto il brodo di carne quello classico di natale avete presente è sicuramente buonissimo però ci vuole un sacco di tempo a prepararlo quindi quando voglio mangiarmi due tortellini in brodo ci metto un dado sinceramente faccio così quindi io li utilizzo tanto e questi sono senza glutamato e quindi mi fa piacere perché sono quelli comunque che mi servono e poi qui c'è un preparato per brodo vegetale con otto verdure della linea bio eccolo qua il brodo vegetale devo dire che lo consumo molto molto meno rispetto al brodo di carne però comunque è una cosa utile anche magari per fare un risotto per fare un arrosto non necessariamente per bersi il brodo così ma utilizzarlo proprio in cucina per cucinare è una cosa che sicuramente mi può interessare tantissimo e poi come ultima cosa ci sono due ricettari all'interno uno è il ricettario della linea bio questo qui e poi c'è il ricettario invece senza glutine per torte e biscotti ora io lo apro un attimo perché voglio vedere che cosa c'è all'interno ci sono un sacco di ricette guardate fatto così a fisarmonica e dentro abbiamo un sacco di ricette andiamo a vedere insieme cosa c'è la prima è la crostata quindi il preparato per la crostata poi abbiamo il cramble non so cosa sia non so nemmeno se si pronuncia così comunque è questo poi abbiamo i biscottini a forma di animaletto eccoli qua questi poi qui c'è la rovesciata all'arancia ragazzi sono tutte cose che non conosco a parte i biscotti poi c'è la banana breed non so cosa sia eccola qua e poi la ciambella allo yogurt finalmente qualcosa di conosciuto perché sono tutte ricette di cose che non conosco sono sincera poi c'è la torta farcita eccola qua la torta cioccolato e pere questa tra l'altro io sono anni che voglio provare a fare la torta cioccolato e pere non ho ancora provato e potrebbe essere l'occasione giusta poi c'è la torta di mele e i muffin con le gocce di cioccolato eccoli qua e questo è il primo ricettario che è quello bio quindi potete utilizzare i prodotti san martino della linea bio poi invece c'è questo senza glutine per torte biscotti ovviamente potete utilizzare anche prodotti con il glutine nel senso che la ricetta è un'idea poi voi usate il prodotto che volete però è comunque una cosa interessante allora muffin alla marmellata la prima ricetta poi c'è la torta agli amaretti che hanno fatto a forma di ciambella poi c'è la crostata di mele e marmellata eccola qua questa qui verde poi questa invece sono i biscotti all'arancia poi abbiamo la torta sbriciolata eccolo qua poi abbiamo la rovesciata alla frutta poi biscotti alle mandorle eccoli qui vedete quante ricette che ci sono sono due ricettari veramente molto pieni di cose torta al caffè con la crema ecco questa la vorrei provare poi di nuovo questo cramblè non so se si pronuncia in questo modo io lo sto dicendo alla francese ma magari poi non è francese non lo so comunque questo poi muffin cocco e cioccolato poi plum cake al cioccolato bianco questo qui azzurro poi c'è questa ciambella che è la torta alla frutta secca e poi basta diciamo che adesso che ci hanno fatto venire fame con tutte queste prelibatezze possiamo andare a provare qualcosa fatemi sapere nei commenti se vi interessa la mattonella al cioccolato e la torta eccola qua fatemi sapere se vi interessano perché se è una cosa che vi può interessare magari quando vado a prepararle faccio il video così condivido con voi la preparazione vediamo insieme cosa c'è all'interno e come si prepara potrebbe essere una cosa interessante però ditemi voi se vi interessa adesso però volevo farvi vedere la scatola ve la avvicino così magari la vedete meglio questa qui è la scatola vedete ci sono delle immagini veramente molto carine sono immagini antiche che andranno a ripercorrere un po la storia di san martino vedete qua ad esempio c'è la macchina la macchina san martino poi anche di lato ci sono queste bellissime immagini vedete faccio fare un giro alla scatola in modo che la possiate vedere eccola qua scusate per questi rumori ma è la scatola di latta che insomma nei momenti in cui prendo la parte vuota fa un po di rumore eccola qua è una bellissima scatola che sicuramente io utilizzerò proprio in cucina quindi me la terrò in cucina ci metterò dentro tutte le mie cosine ed è sicuramente una cosa bellissima sono contenta di avere questa scatola se vi interessa se la volete anche voi sappiate che costa 21 euro e potete ordinarla direttamente sul sito san martino non so se si trovi anche su amazon non ne ho idea però io vi lascio comunque in info box tutti i riferimenti quindi non mi resta che augurare alla san martino tantissimi auguri per il suo ottantesimo compleanno vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme